L'Expo Milano 2015 è una straordinaria occasione per l'Italia e un'importante opportunità per la nostra regione, a dichiararlo il Presidente dell'Associazione Culturale, insieme per il Centro Abruzzo, Antonio Ruffini. Bisogna approfittare di tale possibilità, sostiene Ruffini, per uscire assolutamente dallo stato di grave crisi in cui si trova il nostro territorio. Non si può aspirare infatti a migliore vetrina di quella dell'Expo Milano 2015, per esporre le nostre preziose risorse ambientali, monumentali, architettoniche, artistiche, paesaggistiche, storiche, culturali e particolarmente enogastronomiche della cucina tradizionale abruzzese. Occorre pertanto elaborare un progetto territoriale unitario che sappia valorizzare al massimo il nostro patrimonio. L'Associazione Culturale, insieme per il Centro Abruzzo, ritiene da questo punto di vista che il progetto sviluppo e occupazione nel territorio dei parchi, con qualche semplice modifica e opportunatamente redatto, sia idoneo a perseguire tale scopo. Per questi motivi, conclude Ruffini, invitiamo l'intera collettività rappresentata dalle varie categorie di lavoro, dagli imprenditori, dai commercianti, dagli artigiani, dagli agricoltori, dai professionisti, dagli albergatori, dai ristoratori, dai sindacati, dalle banche e soprattutto dagli amministratori comunali di Sulmona e dei comuni limitrofi a unirsi per partecipare tutti insieme a questo importante evento di portata universale.